Carissimi telespettatori, buonasera a tutti! Entriamo nei dettagli per il prossimo settore. Io sono molto curioso di provarla, venite con noi. Lunga 4 metri e 34. Vettura dalle dimensioni indubbiamente importanti qui in studio a SaveDrive e ospite altrettanto importante. Beh insomma, quando si dice che la tecnologia, soprattutto in materia di sicurezza, ha fatto passi da gigante. Lascierei lo spazio alle news della settimana. Grazie di essere venuto con noi, ciao alla prossima. Ci vediamo la settimana prossima, sempre qui.